Porta il gluteo destro, giallone, colpaccio, coscia, gluteo destro. Passa per il gluteo sinistro, scende per la coscia sinistra, colpaccio e piede. E ritorna su, tibia, coscia, attraverso la zona delbica, passa sulla coscia sinistra, tibia, la veglia, fuori, e ritorna su. Andiamo all'interno mentre arriviamo a sfruttare il nostro addome, il pezzo, passiamo sulla spada destra, braccio, avambraccio, colpaccio e mano destra. E ritorna su, verso la spada sinistra, braccio, avambraccio, mano, e ritorna su. Massaggia tutta la zona cervicale, la nuca, ci massaggia il viso, la fronte, gli occhi, le guance, il naso, la bocca. Passa per la gola, va a pulire la gola, e ora si ferma al centro del petto.